allora le ali lei conosce benissimo io non sono voluto andare in più l'avvocato è però era importante questa anche perché è un passaggio dedicato e quindi lei era lì conosce questa ragazza la riconosciuta prego non diciamo nomi e cognomi manteniamo assolutamente il riservo anche se voi avete capito benissimo credo di chi si possa trattare mi convince questo racconto o no no non mi convince assolutamente perché io penso che una ragazza che è stata violentata ha subito delle violenze io non riesco a capire come possa pensare di programmare una vacanza insieme ad una persona che gli ha fatto comunque del male ma comunque se già nella prima volta in cui avevano fatto lei dice che c'è qualcosa che è andato a Milano dice lei non me ne sono resa conto poi vedendo tutte le altre dichiarazioni delle altre ragazze ho capito che qualcosa ecco questo dice ragazza poi sentiremo l'avvocato chiesa quindi significa che a milano quando ha fatto il suo menaggio a tre a quattro non ha avuto il sentore che fosse una situazione particolare cioè lei addirittura a tre a quattro quindi pensa che anche lei si si riferisce quella storia che mi riferite quella storia che ci riferiamo giugno mi sembra giugno ha detto quando le telecamere e adesso ascolteremo l'avvocato chiesa quando le telecamere verranno bagliate dal dottor cali dalla dottoressa mannella eccetera si accorgeranno che quella ragazza era lì insieme ad altri lei lo conferma certo assolutamente ma voi come lo fate a sapere non eravate in quella stanza assolutamente ma ma tramite il racconto di amici tramite racconto di amici vi hanno parlato dopo tutto quello che è successo già all'epoca già all'epoca ci raccontarono che fecero questa serata a Milano e poi c'è un incongruenza lei dice che ha interrotto i rapporti con genovese lei si è presentata aspetta un attimo aspetta un attimo sentiamo subito l'avvocato